A un certo punto quest'illustrazione, non so come, se l'è magnata internet E i fanzines sono semplicemente delle riviste, dei libri o riviste autoprodotte Un passo scatenato Ma so che gli ho fatto un danno al fianco destro Io abituato ai tempi dell'illustrazione ormai sono diventato abbastanza una macchina Che ho visto che mi è stata rubata da una etichetta discografica neonazista Che figata, Ramona è sgarato, che titolo Fare fumetto ma divertendosi anche Nel senso che ogni pagina risponde alla domanda Mo che cazzo mi invento per far continuare la storia Fatica che non l'ho fatto io perché per me è stato uno sballo in realtà Eh ok Ciao io sono El Gazi e questo è il podcast di El Gazi Io vi ringrazio per essere qui Tutte le settimane noi usciamo con questo podcast meraviglioso sulla creatività E portiamo ogni volta creativi di ogni genere Potete vedere nella playlist El Gazi Podcast nel canale YouTube Se siete su Spotify andate sul canale YouTube e guardate Siamo su tutte le piattaforme Portiamo contenuti legati alla creatività E questo podcast è sulla creatività Oggi ospite con noi c'è Alessandro Ripane Ripane Ciao Ripane Ho provato a chiedere di poter fare io la regia ma niente Ha preferito che io parlassi Io ho anche tentato di avvisarti della rimoscia Hai detto niente Stavolta niente regia Faccio parlo e basta Andate Ah ma c'è la rimoscia? Non si è notato No è che non si può Ah non si poteva Le politiche di YouTube non permettono Vabbè ma poi in post produzione la facciamo doppiare Sì sì la facciamo doppiare Secondo me ho un pochino di doppiatori Pensavo non so Qualcuno secondo me di bravo lo troviamo Magari per con i sottotitoli Anzi se mettiamo i sottotitoli nell'erre Mettici due puntini sopra Qualcosa che si capisca appunto Che sia moscia questa erra Quando parli dell'erre moscia mettiamo un bip Censuriamo tutto Censuriamo tutto Va bene mi piace questa cosa della censura Bello Mi piace il tuo Come si può dire Il tuo humor Che ti prendi in giro da solo Sì io lo faccio spesso Ma mi offendo anche da solo a volte Mi prendo in giro Mi offendo Faccio tutto io Detto così Può suonare male Ma in realtà sì Mi prendo in giro Mi offendo Fai tutto One man band In questo sono assolutamente una one man band Senti ma Facciamo finta di esserci appena conosciuti Cosa? Fingiamolo bene No Oggettivamente è successo pochi minuti fa Anche se così tante cose sono già state dette Mi sono già lamentato di Milano Abbiamo già parlato Voi chiaramente non si vede Perché siamo qua in questo elegantissimo salotto Ma Gabriel ha settato tutta questa bellissima nebbia Per far sì Io da Ligure chiaramente Di farmi sentire esattamente Di farti arrivare a Milano Nella Milano che noi Liguri poi immaginiamo Quando siamo giù in Liguria in Ciabatte Noi immaginiamo questa Milano nebbiosa Oggi è esattamente così Esattamente Così natalizia Ti abbiamo accolto proprio alla grande Lo riesci a vedere a un metro da te Fantasma Infatti qua Questa sembra una parete Ma in realtà è una stanza enorme Ma questa è nebbia Non so se vedete È tutto nebbia Senti ma Una roba che adesso serve anche a me A capire La tua persona eccetera Ma chi è Alessandro Ripane? Ma guarda glielo chiedo immediatamente Visto che mi prendo in giro da solo Me lo chiedo da solo Alessandro Ripane è un giovanissimo ragazzo Di 33 anni Che Ah 33 33 E infatti ho scelto Speravo un 22 che non c'è delle erre Però 33 sono i trentini E sono anche L'età di Cristo L'età di Cristo Cristo aveva questa cosa Che aveva più capelli di me però Sono tipo lui Ma pelato Forse con un po' più di pancia Lui comunque Sembra abbastanza prestante Sì 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 Ma lo capisco Ma lo capisco Lo capisco Erano tempi diversi Ce n'era più necessità E Alessandro Ripane è un ragazzo genovese Che da ormai da un po' di anni Si è trasferito Dai nemici Dai nemici Nella Ho scambiato Dall'isforza Eh no Ho scambiato il mare Con qualcosa di più prezioso Secondo me Che è chiaramente La pianura padana Che è sempre il mare Comunque da quando sono nato È sempre uguale E trasferito a Milano Faccio l'illustratore Ormai da una decina d'anni Ufficialmente come lavoro Sì E questo percorso qua Mi ha dato modo Di provare anche Esperienze da fumettista Addirittura ultimamente Cazzo Quindi È uno degli argomenti Che poi toccheremo No assolutamente Anche per le cose più Non è ovvio Che c'è il tuo Il tuo fumetto lì In No no Esattamente Ma è anche una delle ultime cose Che mi è Una delle ultime sfiga Che mi è capitata No scherzo È chiaramente È uno degli ultimi Ultimi risvolti Poi del mio lavoro Visto che poi Già all'inizio Avevo tentato La strada Del fumetto Fumetto molto breve Facendo la gavetta Chiaramente Come molti di noi In fanzine Varie Sono capitato invece Sul fumetto lungo Sì E Dio mio Non lo consiglio a nessuno Il fumetto lungo Cioè statene alla larga È un lavorone È una cosa È difficilissimo Non fatelo ragazzi Cioè se io posso dare un consiglio Non fatelo Non approcciatevi a questa cosa È difficile Sembra facile Ma è molto più Sofferenza Di quanto si Si possa Credere Spero che chi legge Il mio fumetto Potrà soffrire Almeno tanto quanto me Nel senso Io l'ho adorato Ma che Non si soffre ragazzi Poi Poi entriamo meglio Nei dettagli sul fumetto Perché è una roba Da paura Da paura Livelli altissimi Sono molto molto contento Io lo posso dire Livelli altissimi Di intrattenimento Perché sembra che lo leggi in un attimo Ma devi tornarci Bellissimo Mi è piaciuto giocarci un po' Mi piaceva anche prendervi appunto Prendo in giro me stesso Ma voglio prendere in giro anche voi Attraverso questo I rearmi che poi Con cui posso combattere Appunto i disegni E i fumetti E la storia Creatività a mille Pompato Tu sei il Boldy Builder Della creatività Sì della creatività Esatto Che non si vede fisicamente Ma è tutto qua Il cervello Muscolosissimo Senti ma Creativo Illustratore Qual è la tua formazione? Da dove Cosa hai fatto? Una formazione molto classica Per molti di noi Ho fatto Liceo artistico Non un anno Non due anni Non tre Non cinque Ma ben sette O otto Ho pensato di Approfondire molto bene Mi trovavo assai bene Liceo artistico A Genova E' stato Sette Oto anni Più belli Della mia vita Poi ho provato A parlare con mia madre A proposito della mia carriera Futura Universitaria Sono volate Alcune teglie E da lì ho capito Che il mio percorso formativo Doveva Terminare In quel istante Chiaramente dopo Ho iniziato a lavorare E la vita Mi ha portato In un luogo Oscuro Che è la Scandinavia Ho vissuto Un paio d'anni In Svezia Te lo giuro Veramente Svezia E staranno da una persona Che fino a due minuti fa Si lamentava del freddo Sono vissuto In Scandinavia E poi lì ho avuto modo Nella solitudine Svedese Ho avuto modo Di crescere molto Artisticamente Tanta solitudine Tanto disegno E ho iniziato A conoscere meglio Il mondo Dell'autoproduzione E poi ho iniziato Principalmente da lì Tante cose I miei lavori Hanno iniziato a girare Parecchio poi Nelle fanzine Sia in Italia Ma anche in realtà A livello europeo E a un certo punto Volevo trasferirmi fuori Ma hanno iniziato Ad arrivare A miei lavori Da l'Italia L'Italia ha chiamato E Alessandro L'Italia ha chiamato Ha risposto E sono tornato E da lì a poco L'Italia ha chiamato Esatto La citazione era quella No scherzo Però chiaramente Ho iniziato poi Effettivamente La mia Se così possiamo definire Carriera artistica Iniziando a lavorare Poi con band Più o meno Interessanti Ecco Quindi la solitudine Ti ha tirato fuori Assolutamente Assolutamente Mentre ero lì Con le stalattiti Nel sedere Ho scoperto Che potevo disegnare E già Quando ero a Genova Poi è stato un po' Il mio Erasmus Non potendo andare All'università Io invidiavo Queste persone Che andavano In posti fantastici Caldi Tornavano con storie Di sesso E ho detto E io quindi E io Chi sono io Per non fare Una cosa del genere E quindi Mi ha portato Appunto A passare Un anno e mezzo In Svezia E la solitudine Mi ha aiutato Mi ha aiutato Perché Lì ho iniziato A disegnare Tantissimo Ho iniziato Ad utilizzare Appunto internet Grazie a internet Sono entrato in contatto Con un paio di artisti Alcuni che poi Sono riuscito a conoscere Altri semplicemente Vedendo Piano piano Muovere i primi passi In quello che poi È il mondo Dell'editoria indipendente Poi Adesso Fanzine Ce n'è moltissime Fino a dieci anni fa Ce n'erano sempre tante Ma rispetto ad adesso C'erano anche Molti meno festival Ogni città Più o meno italiana O quasi Adesso ha un festival Di autotroduzione Eccetera Ai tempi esistevano Non voglio dire Che non esistessero Il primo che ho fatto Il crack a Roma Il crack festival a Roma Che consiglio a tutti Almeno Una volta Non vi dico di andare Ma di sopravviverci Più che altro Fichissimo Un'esperienza incredibile E da lì appunto Ho iniziato poi A trasformare Lentamente questa cosa In un lavoro In un lavoro vero e proprio Iniziamo Con la musica Perché comunque Ce la vai Ah si inizia con la musica Eh la musica È una delle prime cose Gli amici che ti chiedono Le copertine I poster Allora qualche band Che non ti conosce Eccetera Fino a poi arrivare Alla storia Che a sto punto Racconteremo dopo Dei bambini col gramofono Che a sto punto Ah si Spero nel tuo programma Ci sia Comunque almeno Questa domanda Visto che Su storia e geografia Non sono preparato Ma sui bambini col gramofono So tutto Anche perché Voglio dire Sono colpa mia È una tua illustrazione Giusto Certamente Ma ha portato Sfiga a molti Poi ne parliamo dopo Se vuoi Ma no Perché no Perché non parliamo adesso Quello che mi ha lanciato Più di tutto Perché poi chiaramente Già iniziamo La facciamo vedere Ma a sto punto Mostriamola Insieme al sole Al whisky Cioè ci sono i bambini Col gramofono Che sono loro Adesso hanno più o meno La mia età Siamo appunto Sulla trentina Perché sono cresciuti Anche loro con me Ho fatto questa illustrazione Tra l'altro Per una rivista autoprodotta Lock Zin Molto valida Nel caso Vogliate approfondire Ed è stata poi Sono stati questi due staronzi A lanciarmi poi Nel lavoro vero e proprio Nel caso Avevo già lavorato Con vari clienti E stavo iniziando A un certo punto Quest'illustrazione Non so come Se l'è magnata internet E tu sai Che quando dai una cosa In pasto all'internet È andata Tu puoi Avrei dovuto Metterci un watermark Avrei dovuto Ma sono tutte frasi Che non Ahimè Non credo che tu Abbiamo la macchina del tempo Quindi ormai Questa cosa è andata È andata in cibo È diventato virale Neanche virale È diventato lentamente Un pochino Agirato Non direi virale E ahimè L'hanno presa una band Di media importanza Che si chiamano Pace all'anima loro I prodigi Ma dai I prodigi rubano Quest'illustrazione Che la usano per un post Sui loro canali social Da lì Addio Nel senso che Da lì questi bambini Hanno fatto tutti i viaggi Che io non ho mai fatto Nella vita Se li sono fatti tutti Hanno iniziato a girare E clamorosi Esempi di furto Poi Perché Ma scusa Cioè eri inconsapevole Di questa cosa Io ero in Svezia In quel momento Mi arrivano Centomila messaggi E sai quando ti spaventi Dici ma Assolutamente Questi amici Ma cosa avranno Da chiedermi Tutti insieme Vai su Instagram Vado E io forse non avrò Neanche Instagram Al tempo Ma dai 2015 Io sono fatto Non tanto tempo fa Cacchio È successo Che l'hanno rubata E va bene A me va benissimo Però ha fatto Ma ha dato un'esposizione Incredibile Poi dopo Ci sono stati altri artisti Tutti della mia adolescenza Davvero Ebbè c'è anche Rage Against the Machine Tom Morello Se andate nel profilo Instagram di Tom Morello E andate molto indietro Qualche anno fa E anche lui Ci ha cascato E questi bambini Mi hanno dato Mi hanno fatto malissimo Da una parte Perché effettivamente Ovunque nel mondo Possiamo dire Che sono spuntati Dei poster di serate Dei tatuaggi Delle locandine Delle copertine di dischi Con questo Con questa illustrazione Ma mi ha anche dato Una visibilità Spaventosa Ah sì Io tutt'oggi Sono costretto A gularmi da solo Un po' per vanità E un po' per scoprire Quali usi Sono stati fatti Nell'ultimo mese Di questi Di questi bambini E ogni volta Sono È una È una scoperta Fantastica Guarda L'ultima Te la posso dire Sì sì Dile Veramente Secondo me Credo che si sia Finalmente chiuso il cerchio Ho visto che mi è stata rubata Da una etichetta discografica Neonazista Nooo In Italia La mia reazione iniziale È stata quella Poi ho detto Cioè questo è esattamente Un cerchio Che si chiude Sono arrivato anche lì È terribile Non mi ho provato a contattare Sono incontattabili Ma sono diventato un logo Anche per quello Non ti dico i tatuaggi Che ci sono in giro E non è per menarmela poi Però effettivamente Spesso mi capita Di dire il mio nome Magari così Ovviamente Alessandro Ripane Mi capita di lavorare Con diversi brand Ma poi Sono illustrazioni Spesso non così iconiche Questa Quando la mostro Tendenzialmente Anche a gente Che magari Non sa nulla di me O del mio lavoro Mi dice Ma sì l'ho vista E l'ho vista Magari in un mercato Govino Ma era il poster Di una serata in Francia No ma c'è un mio amico Che in Argentina C'ha sta maglietta Come ci sia arrivata Non lo so Fortunatamente ho Una sorta di polizia Dell'internet Che ti aiutano Che persone Che magari Seguono il mio lavoro Che ogni tanto Mi scrivono Mi dicono Bomber Senti un attimo Guarda che io l'ho vista A un mercato Che la stava vendendo Sto tizio Sto tizia Occhio E ci sono stati casi Poi abbastanza eclatanti Un tizio In Brasile Che si è fatto Una mostra personale In un locale E la locandina Di questa mostra Era il mio disegno Che è un'infamata Infame Io ho anche scritto Sei giovanissimo Io lo capisco Magari sei anche bravissimo Ma se tu come Cioè se io facessi un disco E la prima traccia Che ascolti È una traccia Che ho preso Da un'altra Non so quanto sia Sensato Cioè rivedi un attimo La tua strategia Ma scusami Ma in questi casi Cioè Tu hai Hai già denunciato È impossibile È impossibile Perché queste cose qua Sono successe spesso all'estero O per realtà Troppo piccole A cui io sono magari vicino E quindi mi spiace Più che scrivere La maggior parte L'hanno rimossa O la cosa buona È che magari L'hanno rimossa Ma poi sono diventati Magari dei clienti Nel senso che hanno detto Ok ti chiediamo scusa Ma senti Ma ci fai qualche lavoro Per noi E quindi questo è Mi ha dato anche tanto lavoro Da cose magari piccole Come appunto La t-shirt Per una band Musicale O magari Gli sticker Per dei locali Anche fuori dall'Italia Abbastanza interessanti Sì Sì Delle cose Quindi ti ha dato Una bella anche spinta Mi ha dato una spinta totale Ma tuttora Magari casualmente Magari mi è capitato Di conoscere gente Appunto fuori dal giro Dell'illustrazione Che comunque L'aveva vista come Credo sia diventato un meme Nella grande Ciclopedia dei meme E un meme da metallari È diventato Quindi Ma io infatti Non ho visto così Tanta esposizione La conosco Perché Conosco Tai E ne abbiamo L'ho vista spesso anche Le tue illustrazioni Da lui Certo Ma Non ho colto La parte virale Della illustrazione Ti dico Adesso magari poi Non vorrei averla esagerata Ma se cerchi su Google Immagini Esce di tutto Eh immagino Io comunque Tuttora ogni tanto Sgramo Guarda c'è un tizio In Argentina Che ha la schiena Tatuata con questa roba Davvero Ma è gigantesca Poi dopo te lo faccio vedere Devi andare un pochino Magari indietro Su Instagram Magari Ah su Instagram lo becco? Secondo me su Instagram lo becchi Secondo me è un qualche anno fa Ma visto che non è che sia Un Un postatore assiduo Di Di contenuti Secondo me In meno di 40 minuti ci sei Ogni tanto vedi che già spunta un tatuaggio Un tatuaggio E infatti Fai quella maglietta ufficiale Vedi che già ha spuntato un tatuaggio Cazzarola E questo è uno dei milioni Perché poi me ne mandano Ma a volte li sgamo io Semplicemente andando a cercare Sì un altro Poi Ogni tanto Qua è una spille Che poi con la rete estetica Abbiamo fatto sia spille Che top Perché ovviamente sull'onda Del Chiamiamolo successo Poi è un successo Assolutamente Chiamolo successo Ovviamente Relativo Qui spunta un cazzetto triceratopo Eccola Eccolo qua Ecco lui Io non so il nome Non so il cognome Un pazzo scatenato So che gli ho fatto un danno Al fianco destro Io l'unica cosa che so Di questo ragazzo È che ha un danno incredibile Nel fianco destro Tanto ho fatto anche molto bene Secondo me Cioè Ma è un pazzo scatenato Lui sapeva che Lo stava facendo Con la tua Cioè era tua Ah penso lo sapeva Cioè non so se era in grado Di intendere In quel momento Ma immagino di sì Anche perché credo che Sia voluto una sessione Di tatuaggio abbastanza Abbastanza lunga Lui lo sapeva Perché mi ha scritto In realtà Mi ha contattato lui Ci fa Guarda cosa ho fatto Io apro Stame Guardo E io ho detto Guarda io sono Sono allibito E onorato Allo stesso tempo Quindi il tatuaggio In realtà fa molto piacere Perché poi un tatuaggio Non ha scopo di lucro Quello che fa un po' più male È quando Te la sgamo Magari che Tizia Che vende L'illustrazione Su magliette Che magari Dici Però magari Cioè io tra l'altro sono Cioè mi fa anche piacere Collaborare Per piccole realtà Eccetera Però cacchio chiedimelo Magari ti riesco A dare qualche scarto Vecchio Te lo lascio anche Cioè mi fa piacere Anche poter aiutare Con pezzi vecchi Però appunto Questa è Del tatuaggio Non mi fa male Mi fa male appunto Quando viene poi Venduta O che la trovo su siti Che È un danno per te Ma è per me Ma come per Molti altri colleghi Che si sono trovati Cose copiate Eccetera Poi qualche volta L'ho anche vista rifatta Che lì invece Quasi è Un omaggio Mi fa piacere Invece quando Vado a sgamo O così Ma infatti Su questa cosa qua Sto facendo Un fumetto Appunto Ah grande A questo punto La prossima storia Che sto cercando Di tirare su Tanto adesso parliamo Poi se mai Della prima uscita È una cosa molto simile Ma che parla appunto Del rapporto mio Con questa illustrazione Ma poi Del rapporto Illustrazione Creativo Nel senso che Spesso le illustrazioni Sono come poi Non voglio fare Dire questa banalità Oribile Se mai Censurami Sono un po' come Dei figli Nel senso che Oggettivamente Poi prendono a volte Una vita Assolutamente E quindi Tu non hai più Il controllo Come nel caso D'illustrazione È andata Cioè Lei vive di vita propria Lei Quest'illustrazione È stata in posti Che io non vedo mai Su persone Che io non conoscerò mai Però è stato un caso È stato un caso È stato un caso Ha girato un pochino Secondo me Su qualche Ma neanche su Instagram Secondo me L'hanno sgamata Su qualche pagina Ai tempi c'era Tumblr Qualche blog L'hanno sgamata È piaciuta E via Ma qual è la storia Quando hai fatto Quest'illustrazione Probabilmente Ero in mutande In casa E dovevo fare Un lavoro Per una fanzine Quindi ti ripeto I lavori solitamente Quando li facevo Ai tempi Adesso ho chiaramente Ridotto Se non addirittura Tagliato questa parte Solitamente c'erano Le open call In cui queste fanzine Chiedono agli illustratori Delle illustrazioni Funziona molto all'inizio Adesso forse un po' meno Perché appunto Il numero di fanzine È aumentato a dismisura Che in realtà forse Potrebbe essere Anzi un vantaggio Ma spieghiamo Cos'è una fanzine Fanzine sono semplicemente Dei riviste Dei libri O riviste autoprodotte Quindi che non passano Attraverso L'editoria più grande Quindi io e te Decidiamo di pubblicare Una fanzine Sul prosciutto crudo Perché è la nostra Che ne so La nostra passione E il prosciutto crudo Dice ok Facciamo una cosa Ci scrivi qualcosa Facciamo solo dei disegni Invitiamo Degli illustratori O dei grafici esterni Chiediamo opere A tema Prosciutto crudo La facciamo uscire Ci sono fanzine Che escono Con un numero solo Fanzine che escono Con partire dei libri Fanzine che escono Invece a numeri Quella Loczin Per cui ho fatto Questa illustrazione Non mi ricordo neanche Il tema di questo Del numero Avevo fatto Forse identità era E non so perché Mi ero fatto Questo viaggio La musica Le cose Ma non c'è poi Neanche una ragione Vera Perché poi è come Chiedere a qualcuno Ma qual è l'ispirazione L'ispirazione è Dovevo fare con la roba Faccio questo Perché mi faceva ridere Fare un grammofono Che Però si vede che Pianeti allineati Ho sgamato Ho beccato Tutte le Le corde giuste Ed è Piaciuta effettivamente Poi non credo sia Neanche tra i miei Lavori più riusciti Però è E' piaciuta E ti giuro che Ha dato i suoi frutti E' bello E' bello perché Sei entrato in un meccanismo Che tutti vogliono entrare Che è quello di far Diventare virale Le proprie illustrazioni Senza volerlo In maniera più 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 stupida Ci ho provato Anche successivamente Vogliamo dire risultato Sei riuscito Nullo ovviamente Perché poi sono cose Le cose che fai A cui tieni E che Pettini troppo Che le curi tanto Poi magari Sì fanno il loro lavoro Ma nell'immediato Questa In poco tempo In un anno e mezzo Dall'uscita Ha trovato Per questo che secondo me È interessante raccontare Una storia di fumetti Ovviamente Nell'ambito del grottesco E del surreale Come io non l'abbia spinta Nel senso Ah beh sì Si è andata Non sono io che ho Che ne so Sponsorizzato Certo Certo è andata La butti su internet E questa dopo un po' Non so neanche se l'ho messa io Su internet Cioè Qualcuno L'ha messa Su qualche sito Che Le ha dato Questa visibilità Perché io non ricordo Di averla Spinta Più di quanto Poi Faccia Semplicemente Postando una cosa E poi ti ripeto Mia vita sui social È veramente Molto Modesta È umile Faccio fatica Con i social Sono Eh vabbè Anch'io Anch'io Su questo Punto di vista Sono un po' Bloccato Ma senti Ma tu hai Pubblicato diversi libri O le tue opere Sono sotto diverse Pubblicazioni Allora Io ho pubblicato Pochi libri Nel senso Che spesso Mi era capitato Di lavorare Alla copertina Ma dai illustratori Quindi O di fare Delle illustrazioni Per dei libri Ma non posso Chiamare i miei libri Per esempio Sono illustrazioni Fatte a servizio Di una Di un Di un Di un Di un Di un autore Eccetera Libri miei Avevo pubblicato Un'altra graphic novel Precedente a quella Di cui parleremo Tra poco Ma è su commissione Quindi Non la considero Neanche il mio esodo Una pubblicazione Avevo fatto altre Ma sempre nel campo Do it yourself Quindi Sì 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 Fanzine Ma questo Lui È oggettivamente Mia prima uscita Perché è quella Che è scritto Disegnato E ho fatto tutto Io diciamo Ovviamente Mi hanno dato Una grossa mano Redito Valerio Stivè Che ne approfitto Per salutare Mi ha dato Una grossa mano Per correggere Alcune cose Ovviamente La scrittura È la cosa Che mi tedia di più A me Sul disegno Posso andare Nel senso Che riesco A non avere Dei limiti Sulla scrittura Scrivo come parlo Quindi con la remoscia È un disastro E lì Devo dire Che mi hanno aiutato parecchio Edizioni BD Mi ha seguito E questo Questo poi È il mio esordio Lo considero Effettivamente A tutti gli effetti Il mio esordio Ok Però Le tue illustrazioni Sono su altre pubblicazioni Sì Assolutamente Sono commissioni Eccetera Certamente Parliamo di Ramone Sgarrato Assolutamente Assolutamente Ma tu lo sai Come è nato tutto Ma lo facciamo vedere Ma facciamolo vedere Ma non abbiamo paura Di farlo vedere Dai è di colori abbastanza Sgargianti Quindi speriamo Di avervi acceccato A dovere Le persone lo trovano Su Amazon Lo trovano su Amazon Lo trovano Sugli store online Ma anche in fumetteria O in librerie Credo che Feltrinelli E altre librerie Doveste trovarlo Abbastanza facilmente Ok Il libro è dell'anno scorso E Tu hai idea A un certo punto del libro Senza voler spoilerare nulla Hai notato Che c'è Una foto Di un muro Con scritto Ramone Sgarrato Sì È da qui che nasce tutto È alla fine È da qui che nasce tutto Ma non è una sorpresa Questa qua È una cosa che purtroppo L'ho fatta più per me Che per Che per i lettori Nel senso che Ovviamente la storia funziona Anche senza Questa narrazione Però Tutto è iniziato Nel lontanissimo 2010 2011 Nel mio amatissimo Quartiere di Sesta di Ponente Da non confondere con Sesta di Levante A Genova Io sono lì Vivo lì Appunto 2010 Avevo avuto Avevo 21 anni Una cosa del genere Compare questa scritta sul muro Ma dai Questa scritta improvvisamente sul muro Incredibile Cioè per noi A Genova ha una grossa storia Di scritte sui muri Non che Milano Non voglio togliere nulla No Milano Vai tras milanesi Però Genova Sarà nei vicoli Sarà il disagio generale Ha una storia incredibile C'è anche una pubblicazione Tuss edizioni Che è Genova sui muri Che raccoglie Tutte le scritte Incredibili Che puoi trovare Sui muri di Genova E non parlo di tag No no Di bombing Parlo proprio di Scritte sui muri Quindi scritte da persone Che non hanno Idea Che tengono la bomboletta Come si può tenere Un deodoranti No assolutamente Ma tu hai visto la scritta Ho visto la scritta Insieme ai miei amici Mi hai detto Cazzo Che figata Ramon hai sgarato Che titolo Che nome Così Ma chi è Ramon Cioè è una scritta Che ti incuriosisce Comunque Cioè Ramon hai sgarato Da lì Abbiamo pensato C'è una parte di storia Che non posso raccontarti Come no A microfoni accesi Perché spoilererei Il finale Abbiamo deciso Di farci un cortometraggio Abbiamo deciso Di farci un cortometraggio Tutti ovviamente Assolutamente Digiuni Cioè da una scritta Sul muro Sì perché aveva un titolo Così figo Nella nostra testa Che poi magari Qualche biaretta di troppo Ha sicuramente Esasperato Questa storia Ognuno se ne esce Con Sì ma chi è Ramon Cioè perché ha sgarato Serrate magari più o meno Alcoliche Ci siamo fatti un viaggio Io poi nel tempo Ho scoperto che Ramon Rovinando tutto Ed è una storia Molto meno interessante Di come Si possa immaginare Cioè avete scoperto Poi Sì è una persona Che tra l'altro Ho conosciuto Ma la storia Perché ha sgarato È banalissima E credo si possa Riassumere in debiti Piccoli debiti Da ventenni Tra l'altro Quindi cose veramente Superflue Certo Mi hanno visto questa scritta E mi hanno detto Senti ma Ma se ci studiassimo Tipo Un cortometraggio Qualcosa È troppo forte Questa scritta Anche perché ti dà Modo di poter Sbarionare Quando sei Quando hai vent'anni Fortunatamente Grazie Al cielo Questo cortometraggio Non è mai stato O almeno è stato Realizzato in parte Anche perché Vista la nostra Inesperienza Eccetera In materia Fortunatamente Non è mai successo Beh adesso Io lo vorrei vedere Sinceramente Ma no ma abbiamo girato Sono state girate Delle scene in cui Io Stavo appunto In Scandinavia In quel periodo Quindi io sono Completamente fuori Dalla cosa Ma avevo scritto Una piccola Sceneggiatura Sì Succede Come avrai notato Un lockdown Succede un virus C'è un covid C'è una menata Casualmente Ho Casualmente Visto Visto il tanto tempo A casa Che ho dovuto passare Come tutti Ho deciso Di provare A buttare giù qualcosa Per un fumetto Ho detto dai Divertiamoci Un attimo A tirare giù Una storia E spero si noti E credo che tu L'abbia sgamata Questa cosa L'intento principale Di questo libro Tiro fuori Dei discorsi Che mi interessano Come Metafumettistici Cioè discorsi Metatestuali Metafumettistici Ma soprattutto È divertire Voi Ma soprattutto Divertirmi A trovare Delle soluzioni Che in un fumetto Con una storia Che vada a punto A A punto B Sono più difficili Da tirare fuori Assolutamente E quindi Ho pensato Ma se io Provassi A tirare fuori Una storia Di attori Di fumetto Un pochino poi Influenzato Dal cinema Noioso Per modo di dire Che mi interessa A me Facendo un esperimento Un pochino Alla Truffo Effetto notte Un film sul film Un film Non so se Ti hai mai capito Un film Che parla Di un film Che si sta costruendo Ma se provassi Ovviamente Non è un esperimento Nuovo nel fumetto E non è nemmeno Uno spoiler No no Assolutamente Assolutamente C'è scritto Proprio in quarta di copertina C'è proprio scritto No in quarta di copertina Non c'è scritto C'è il codice a barra Però All'interno Delle sue alette C'è addirittura Scritta questa cosa Ma se Provassi a fare Degli attori Di fumetto Come se fossero Degli attori Che provano Pagina per pagina A costruire un fumetto Che gli cade Costantemente Addosso Come poi Qualsiasi progetto Che puoi prendere Parte nella vita Poi cerchi Di fare Un collettivo Di illustratori Un tuo progetto E continua A cadere Cadono pezzi Cosa potrebbe succedere Come potrei Sviluppare Una storia Del genere Come posso divertirmi Io Raccontando Delle cose Possono anche Essere interessanti Per un lettore Da una storia Che voglio dire Ramone hai sgravato Allora niente Pensando a questa cosa Ho detto Ma senti Ma io provo a tirare fuori Di nuovo Quest'idea accantonata Per dieci anni Io provo a tirarci fuori qualcosa Com'è che mi posso divertire Scrivendo una sceneggiatura No Io sapevo l'inizio E la fine Avevo bene in mente Come iniziava E avevo bene in mente Come doveva finire Tutto quello che c'è nel mezzo È stata un'operazione Poi di freestyle Che secondo me Mi va di suggerire A chiunque voglia Fare fumetto Ma divertendosi anche Nel senso che Ogni pagina Risponde alla domanda E mo che cazzo Mi invento Per far continuare la storia La cosa buona È avere un inizio E una fine Ma quello nel mezzo È tutto È tutto improvvisato E devo dire Che questo Mi ha spinto A provare A trovare delle soluzioni Alcune Molto classiche Nel mondo del fumetto Altre secondo me Un pochettino Più ricercate Un po' più Un po' più spinte Un pochino più Più tirate Cioè diciamo che Sotto la maschera Dell'idiozia Del suo realismo C'è comunque Un discorso Chiamiamolo intellettuale Possiamo dire Di ricerca Di espressione Del mezzo Mi interessava Provare Per quanto io Appunto Fumettista Inesperto Perché appunto Da poco Ho parlato del fumetto E con una cultura Del fumetto Non del tutto Completa Proviamo a vedere Quanto in là Posso spingermi Con la surrealità E quanto Questo mezzo Mi permette Di dire Le cose Che mi piacciono Dire Cioè magari Delle cavolate C'è azzeccato Però C'è azzeccato tantissimo Spero che sia qualcosa Di Cioè tu mi hai detto Prima che Ti ha divertito Ed è esattamente Quello che vuol fare Perfetto Un percorso Un platform Poi Perché poi La cosa più simile A questa storia È un platform Cioè preso Proprio dai Super Nintendo Un Super Mario Un Donkey Kong Che va avanti E pian piano Provano a costruire Questo fumetto E fanno una fatica Incredibile Fatica che non l'ho fatto io Perché per me è stato Uno sballo In realtà Disegnarlo Perché veramente Me lo sono Prima ovviamente La fatica Attiva Nel senso Che ho adottato Anche un tratto Differente Rispetto alle mie Illustrazioni Ho notato Perché mi serviva Un tratto Più giocoso E un tratto Più minimale Più Su cui potessi Veramente Giocarci bene Distorcere E distruggere Come volevo Ho messo addirittura Delle foto Delle fotografie Ah sì sì Ho visto E avessi Ramon Era Un attore Beh Gian Maria Volontè Perché lui In un film Famosissimo Di Sergio Leone Per un pugno Di dollari Lui interpreta Ramon Aroho Che è L'antagonista Ramon Al cuore Ramon E diciamo che Un po' La sceneggiatura Mi è stata Suggerita Dalla scritta Sul muro Tutto il resto Poi è stato Un esperimento E devo ammettere Che Tendenzialmente Non sono mai contento Nella vita Come nel lavoro Di quello che faccio Devo ammettere Che a questo giro Sono contento Di come è uscito Lo prodotto Ovviamente A posteriori Cambierei mille cose Ma devo dire Che Dalla tua recensione Ma anche Quella di Alta Sono contento Che in tanti Abbiano capito L'intento E si siano divertiti In questa avventura Ti posso confermare Che è un'opera Apprezzata Ma Possiamo fare Senza dare spoiler Un po' I personaggi Di Igor E i suoi amici Quelli sono Semplicemente Allora Mi piaceva Destreggiarmi Un pochino Su tre personaggi Un pochino Diversi tra loro Ma sono nati Veramente In base Banalmente Al design Che mi piaceva Il tipo Core Corner Era da un po' Che me lo studiavo Che dicevo Cavolo Il personaggio principale Che poi è Igor Sono nomi completamente A caso? A caso Non hanno neanche poi Un Quello volevo sapere Sono abbastanza a caso A parte Fat Joe Che è Il tipo più grasso Che mi ha sempre fatto ridere Mi scuserà Fat Joe Quello originale Però è scritto diverso Questa è la versione italianizzata Perché suda Quel personaggio lì? Perché Ahimè Devo metterlo Per forza Per contratto Qualcosa che suda I bambini si sciolgono I bambini con il gramofono Si sciolgono Quindi ci deve essere qualcosa È proprio un effetto Che mi piace Che si scioglie Poi mi piaceva Dai Togliamoci questo peso Del body shaming È un cicciole Quindi dobbiamo Volevo fare Stereotipato Sono personaggi Tipici Del film Poi da Di genere C'è quello più Timidino Magalino C'è quello Sono tipici È proprio un fumetto Quello che ne sarebbe uscito Se questo fumetto I personaggi del fumetto Avessero perseguito Nell'intento Sarebbe uscito Una porcata In realtà Perché vogliono fare Un fumetto Di spionaggio Quasi un noir Quasi una Una storia di inseguimento Ma palesemente La parte interessante Non è il fumetto Che stanno girando Sono tutte le vicende Impossibili Ah sì Di questo Ramon Che non si presenta E tu Ramon Tu non saprai mai Chi è Tu non Cercherai di capirlo E vedrai Alla fine scoprirai chi è Sì Però Ci sono diversi Diverse situazioni Che non Che sono abbastanza Non complesse È difficile la ricerca Di questo personaggio Poi un po' Aspettando Godot Cioè Personaggi che aspettano Questa cosa qua Che poi Arriva Non arriva Lì sta al lettore Poi capirla E Ci sono diverse citazioni Cinematografiche Perché Non vedendo da quel mondo Ma essendo poi La mia passione Più che il fumetto È il cinema Il cinema Mi piace moltissimo Quindi Alcune cose Le ho dovute Abbiamo già detto Già Maria Volontè E ce ne sono altre Poi da Da sgamare Ho notato Che qualcuno Le ha sgamate E mi ha riempito Di gioia Ma è una cosa Che mi piace Molto Perché poi Il linguaggio fumettistico È molto simile Per certi versi A quello cinematografico In certe cose Poi alla fine Spesso i fumetti Sono quasi uno storyboard Assolutamente Quindi Quando avevo letto Non so Un fumetto tanto Meraviglioso Ma quasi tutti i suoi fumetti Di Paolo Cattaneo Che è un artista Tanto genovese come me Fantastico Un po' Gli avevo detto Ma senti ma Ho sgamato Questi riferimenti O me li sto sognando Grazie Sei uno dei pochissimi Che li ha sgamati Quindi mi piace Mettere queste cose qua I personaggi Servono semplicemente Alla trama Sono personaggi Che servono alla trama A cui io mi sono affezionato Disegnandoli E quindi Mi piacerebbe poi farli uscire Addirittura da questo fumetto E magari trasportarli In altre opere In altre cose Ma questo Ci sto lavorando E spero già l'anno prossimo Che sia una realtà concreta Che potrete Tenere sotto mano Magari per un tavolo Che balla O banalmente Per una stufa No scherzo Però Spero che sarà Diventino realtà Di nuovo Ok Ok Poi Ne vorrò Ne vorrò uno Ne voglio comprare uno Perché assolutamente Mi sono Mi ha molto emozionato E quindi Forse è questo È questo che Che prende tanto Questo fumetto Che emoziona Fantastico Il problema è di far ridere E farti Cioè Confondere un po' E poi Ah ho capito perché E quindi Ti prende Ma è la cosa complessa Ma è la cosa complessa Pensiamo Tipo A un sacco di opere Che hanno questo tema qua Appunto Metanarrativo Sì Spesso sono complesse Di natura Nel senso Continuamente Dovrei uscire Da una Da una situazione Per entrare In una situazione Che comunque è filmica Per esempio O fumettistica Può alla lunga Diventare pesante Quello di cui sono Abbastanza soddisfatto Di quest'opera È che secondo me Mantiene Nonostante la confusione Che genera La leggerezza Che è una cosa Che tendenzialmente È molto facile perdere Perché quando continui A entrare E uscire Dal fumetto Dentro al fumetto È facilissimo Poi Semplicemente confondere Invece qua È così veloce Un fumetto Che va ai 2000 all'ora Non è un fumetto Un fumetto Da leggere Con calma È velocissimo È per questo Che lo paragono Più a un platform Che è un fumetto Perché come il platform È un arcade E quindi è È veloce È frenetico È frenetico Questo fumetto È una corsa È un seguimento Dalla copertina Fino alla quarta Di copertina E questo E questo rende poi Riesce a buttare giù Poi meglio Il tema Che invece è più Magari Se l'avessi sviscerato In altro modo Poteva magari diventare Un po' pesante E non ho Mi rendo conto Di non avere capacità Ancora O se mai Le avrò Per poter affrontare Una storia di questo tipo Perché ci vuole Comunque Una Una sensibilità Un certo approccio Al fumetto Che io personalmente Non mi sento di avere Quindi Almeno Se non altro Al momento Visto che Sto ancora sperimentando Questo linguaggio Sì Domani poi Mi piacerebbe ovviamente Chiaramente Propormi Su una storia Molto più classica Però per adesso Ho voglia proprio Di divertirmi Di spingere Sì sì È giusto Nonostante ci tenga Quasi più che al mio lavoro È comunque una cosa accessoria Il mio lavoro principale Essendo l'illustrazione Lì posso Lì sono abbastanza Quadrato Nel senso che poi Si parla di disegni Certo ma Devi avere una certa attitudine Una mentalità Molto Professionale Chiaramente Confrontandoti poi Con dei clienti E devi essere Sul pezzo In ogni In ogni momento E cercare di Non sgarrare Scusate Non sgarrare Invece qua È invece la ficata Di una storia lunga Del genere E appunto Edizioni BD Me ne ha dato l'opportunità E che veramente Puoi Per donare il termine Cazzeggiare Pur stando dentro Il limite dell'opera Nel senso Puoi divertirti Scusa hai detto Cazzeggiare? No No Hai sentito Ma deve essere qualcuno Fuori in mezzo Non si può dire Questa nebbia Che ci Si può dire Che ci tedia Non Ma Una cosa Interessante E che poi Involverà le persone Anche ad andare Su Amazon Perché è su Amazon È su Amazon Ma lo trovi anche Su altre piattaforme Ma anche su Amazon Ok perfetto Lo trovi Sulle altre piattaforme Lo cerchi su internet Lo trovi Ok Poi metteremo anche Il link Qui sotto Fantastico Una cosa interessante Che ti invoglierà A comprare Questo fumetto È La domanda Che ti farò adesso Vai Che cos'è La rottura Della quarta parete La rottura Della quarta parete È uno spoilerone No Non è uno spoilerone Il problema Della quarta parete È che poi Devi ricostruire Dasta parete Nel senso Che deve tornare tutto E ricostruire Lo sappiamo Non sono un carpentiere O un muratore Ma è tosta Poi ricostruire Non è un grande spoiler Perché la quarta parete Qua Si attraversa la quarta Abbondantemente Nel senso Effettivamente Tu non capisci Mai Ma per chi Non sapesse Cosa fosse La rottura Della quarta parete Che cos'è La quarta parete Ti do una spiegazione Ovviamente Non tecnica Per me Era banalmente Fare dei personaggi Consci Della loro vita Della loro vita Ok Cioè loro sanno Di essere un fumetto Sanno che stanno Facendo un fumetto Meraviglioso Cioè loro sono La cosa che mi diverte È che sono Non ti dico vivi Ma sono Loro Entrano in copertina Escono Vanno tra le pagine Camminano In zone Del fumetto Che dovrebbero essere Non per loro Cioè C'è tutto Una costruzione Loro sanno Che stanno girando Girando Disegnando Un fumetto Che sono disegnati Questo già è Un abbattimento Della quarta parete Ci sono un paio Di momenti In cui Possono parlare A te lettori Ma la cosa Più interessante Sono cose Già viste Molte volte Basta pensare Anche addirittura Credo Non sono un grande amante Ma Della Marvel Però Credo che ci siano Diversi personaggi Che parlano spesso Sanno di essere Cioè parlano Il lettore Loro Oltre a parlare Come alcuni personaggi Appunto Sono consci Di essere personaggi Di un fumetto Di un fumetto Cioè Voi avete capito La mente Di questa persona Che ho qui Cioè È una rava fantastica Ragazzi Cioè Per tutto il tempo I personaggi Si accorgono Di essere Sono ben consci Ma anche poi Nelle piccole storie Instagram Che avevo fatto Per l'uscita del libro È tutto Un sapere Di essere online Mi divertiva Perché questo È semplicemente Non è tanto Parte della storia Perché poi la storia Se fai dei personaggi Così Chi se ne frega È più Un modo per te Per divertirti Perché Sapendo questa cosa qua E sapendo che Questi personaggi Sanno di essere In un fumetto Secondo me Le soluzioni utilizzabili Sono migliaia Miliardi Sono miliardi Addirittura Mi piacerebbe Se mai Riusciremo A fare Magari Un seguito Qualcosa del genere Ho già un'idea Abbastanza matta Che poi Ti dirò Ah Il microfono spento Per evitare No scherzo Chiaramente Però Portare addirittura Questa cosa A un livello superiore Quindi una lotta Tra me e loro In una maniera Secondo me Abbastanza Interessante Ma voglio ancora aspettare Perché è una cosa Che sto Ma in off me lo puoi dire Sì Ah ok Chiaramente Mi spiace Casualmente ci dimenticheremo Il microfono aperto E tutti sapranno Questa cosa Ma è una cosa Ancora in fase di sperimentazione Se dovessi riuscirci Appunto Spero di poter Continuare Questa cosa E poterla mettere Su carta Però ti posso assicurare Che chi compra il primo Chi si legge il primo Si prende il secondo Speriamo 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 che Speriamo che Un giorno Riuscirò a farlo Anche perché Adesso sto lavorando Sempre Con Con la stessa Casa editrice Ma per Poi Su un'altra direzione Anche se Ci saranno Poi dei personaggi Ricorrenti Essendo poi La storia dei bambini Poi essendo Ahimè Io Personaggi Un me Chiaramente Inventato Sicuramente Più 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 sgargiante Più magro Eccetera E sicuramente Torneranno Alcuni personaggi Ma non sarà ovviamente Un sequel Sarà Un modo Perché Sono ormai affezionato A sti qui E quindi Non mi sento Di abbandonarli E funzionano molto bene Come Come spalla Ok Su cui parlare E creano automaticamente Delle situazioni In automatico Si creano E per me Ma sai che Li vedo anche vivere Ma forse perché Animo E quindi Già li vedo Però parliamo anche Di questo Tra Quando Sono pronto Mi sono preparato Giorni Per questa Per questa Chiacchierata Non hai dormito Mi hai detto Non hai dormito Non so di cosa Tu stia parlando No In realtà Sono molto Molto stanco La giornata di oggi Mi ha messo i bastoni Tra le ruote Più volte Per non fare Per non dire Queste cose scomode Con te A quanto pare Ma alla fine Abbiamo vinto noi E ce l'abbiamo fatta Ma per te Tu hai anche scritto Hai anche scritto La parte di Di testo Cioè Di copione Sì ed è stata La vera fatica Di quello Perché poi se ti dico Io abituato Ai tempi Dell'illustrazione Ormai sono diventato Abbastanza una macchina Ok Che non vuol dire Necessariamente Qua mi tiro Un pochino più giù Di Non è questione Di bravura O altre cose Legate a questo È banalmente La velocità Nel mondo Dell'illustrazione Come puoi immaginare Ci sono tempistiche Che la battuta Classica Che avrai sentito Anche tu Mi auguro Spero Se no cerco Di commissionato Un lavoro Te la dico io È Serviva in terrieri E quindi Sono abituato Ormai facendolo Appunto Da una decina D'anni Sono abituato Ad avere Dei ritmi Molto frenetici E disegnando In digitale Adesso Grazie a Procreate A un tagliere Che fa anche Da ipad E grazie a Procreate Appunto Riescono ad andare Molto velocemente Quindi se ti dico I tempi Di realizzazione Di questo fumetto Non ci credi Sono stati rapidissimi Non ci credo Credo che per Io l'avevo realizzato Inizialmente in digitale E già era stato Molto rapido La realizzazione Per riportarlo su carta Quindi ridisegnarlo Completamente Eccetera Ma ti dico Ma secondo me Meno di un mese È stato fatto I testi sono la cosa Più difficile Perché ovviamente Sul lato testuale Lì Lì ho avuto Le difficoltà più grandi Però ti ripeto Mi ha dato una grandissima mano Valerio Che è l'editor Che è stato l'editor E alla fine Ce la siamo cavata Poi appunto Dovendo parlare poco E far succedere Le cose visivamente Perché la cosa Secondo me Bella del disegno È vedere le cose Che succedono E evitare magari Una parte necessariamente Parlata Che spiega troppo Cioè Abbiamo la cosa Di disegnare Vogliamo fare un fumetto Che va velocissimo La parte visiva È più importante Quindi Le gag Che secondo me Sono più riuscite Sono tutte visuali Sono tutte visive Assolutamente sì Sono tutte cose visive Assolutamente sì Se lo riduce i testi C'è poco di comico Sono solo testi che servono Per far capire la storia Fosse per me L'avrei fatto muto Ma ahimè Mi serviva Anche perché muto Acquistava ancora più valore Ogni azione Di qualsiasi personaggio Di qualsiasi Tratto disegnato Non potendolo fare muto Perché serviva Ovviamente Non ce l'avrei fatta Sono testi Veramente che servono Semplicemente Alla storia Era forza Quindi non hanno poi La forza di questo Come hai già detto Abbiamo già evidenziato È il dinamismo Diciamo La cosa che è dinamico Non è la profondità Di un testo Poi La chiave Sei stato molto furbo Nelle illustrazioni Perché Si vede L'animazione Dei personaggi Si vede Cioè il movimento Di personaggi Si vede molto Cosa che nei fumetti Nei fumetti tradizionali Sono più bloccati In quella scena Invece Non avendo vincoli Di vignetta banalmente Di vignetta Non c'hai Hai rotto Completamente Tutti gli schemi Per fare Hai anche pochissimi sfondi E i pochi che ci sono Vengono devastati Quindi È stato Quello è stato veloce Sì 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 Anche solo il fatto Che magari Il personaggio Entra Da una parte E poi esce dall'altra Certo E succede nella stessa pagina Magari Perché no Perché no Avrei fatto anche di peggio Però Avrei bucato proprio il foglio Eccetera Però mi rendo conto Che servono poi No Ha bucato il foglio Sì Forse per me Avrei messo delle cose trasparenti Però Diamoci tempo Per questi esperimenti Ne devi fare uno Tipo Super esclusivo Ma ci sarà Ma no Mi piacerebbe Giocarci veramente Con pagine trasparenti Pagine a metà Questa cosa qua Secondo me la puoi fare Chiaramente per il momento Essendo l'esordio Stiamo tutti molto calmi E facciamo una cosa più tradizionale Poi la cosa bella Ti ripeto Mi ripeto Per la quinta volta È il fatto di poter sperimentare Non avendo dei vincoli Di realismo banalmente Non prende Questo Non è ambientato in un anno Non è ambientato in una città Non è ambientato Non devi Non ci sono esseri umani Sono personaggi Quindi Puoi fare quello che vuoi Quindi a me Poter provare In un'ipotetica prossima volta A giocare anche con pagine In trasparenza Pagine con Cioè Sono tutti giochi Che secondo me Divertono me Ma possono anche Secondo me Essere stimolanti Per un lettore Divertirlo A trovare un metodo di lettura Leggermente diverso Sì sì Leggermente fuori degli schemi Ma Tai non ti ha mai proposto Di fare qualcosa In realtà aumentata? Guarda In realtà Quando aveva Creato l'applicazione Aria Che è stata una ficata Pazzesca Avevo intenzione Di proporgli delle cose Poi il lavoro A me Ti porta da altre parti Perché lì a quel punto Cioè Guarda Io avevo pensato A un progetto Per bambini In realtà Nel senso che Mi sarebbe piaciuto Avevo pensato A questo progetto Di illustrazione Ancora molto Differente Dal mio tratto più Chiamiamolo underground Classico Che è quello Che mi ha Il 90% Dei miei lavori Si basa Fare degli oggetti E far vedere Attraverso Che magari Stampati su carta Sono Un microfono Ma attraverso La realtà aumentata Tu puoi vedere dentro E vedere come funzionano A me Dei personaggi Che fanno vedere È una cavolata Ma anche lì Funziona Sentirti da morire Perché poi magari Fai un libro Una cosa anche autoprodotta All'inizio Che ha degli oggetti Banalissimi Come avevo fatto Una caffettiera Un fornetto Mi ricordo E tu con la realtà aumentata Avevo parlato Poi non glielo mai Sottoposto Tu dovevi vedere Il fornetto Che poi Dentro al fornetto C'era un tizio Con un lanciafiamme Che scaldava Una pizzetta E ti faceva vedere Ovviamente in maniera Sura reale Cosa succedeva E mi ero preso bene Di questo progetto Però poi appunto Lavoro Una cosa E l'altra Mi ha portato Completamente lontano Da questo progetto Ecco Ma c'è nei piani Perché io questa cosa L'ho vista molto animata C'è nei piani Di animarla Di fare un'animazione Ramon Sì Sarebbe fichissimo Ci ho anche provato Una volta io C'è un Ramon Che beve un bicchiere Cioè Avevo provato A fare una cosa Ovviamente molto Amatorialmente Però sarebbe fichissimo Sarebbe fichissimo E al momento No Perché sto appunto Sono presissimo Con il lavoro di illustratore E appunto sto Adesso Stiamo appunto Progettando il prossimo libro Che si distacca leggermente In realtà Non sarà una cosa Completamente differente Però Sì È un po' più classico Diciamo E appunto Posso già dire Che parlo Come ho detto prima Dei bambini Però sarebbe un Un sogno Per me Poter appunto Creare qualcosa In movimento Con loro Tu sei freelance Sì Lavori come illustratore E hai un agente Perché Gli ultimi due personaggi Che ho portato Hanno un agente Tu come ti Un agente immobiliare O un agente Che mi protegge Da Un agente speciale Da clienti pericolosi Ma no Non Non ho un agente In realtà Perché per il momento Mi capita spesso Di lavorare già Con agenzie Che conosco Specialmente Qua a Milano O con clienti privati Al momento Avevo provato Tempo fa A trovarmi un agente Sono stato rappresentato Per pochi mesi Ma non è andata Non è andata bene Non è andata come speravo Non è arrivato Poche cose Probabilmente L'agenzia è sbagliata E non è andata Come speravo Quindi per il momento Riesco appunto Tranquillamente A districarmi Con i lavori Poiché Che ho adesso Ma è nel Ci ho pensato Più volte E effettivamente Sì Vorrei Nell'immediato futuro Nel futuro prossimo Inizier a pensare Di una rappresentazione Perché ti aiuta molto E sicuramente ti toglie Da un po' di problemi Che tu puoi immaginare Da freelancer Che sono Minacce Ma questa è una domanda Che anche a me Fa abbastanza comodo Cioè per capire Il rapporto Tra lavoro Agente Voi avete Un rapporto bellissimo Con il cliente Cioè il cliente Vi apprezza molto Di solito Sì È un po' diverso Poi dipende Da che realtà Lavori E quando ti capita Di lavorare Perché hai Scusami Quando ti capita Di lavorare Esattamente col tuo stile Che hanno visto Le tue cose Non sei un illustratore Che ti chiamano Per lavorare Perché Basta che sai disegnare Ti chiamo Perché È uno sballo È uno sballo Perché tendenzialmente Sono persone Che hanno visto Il tuo lavoro Pensano che possa funzionare E ti contattano E questo sono effettivamente Poi molti dei lavori Anche per brand Più grossi Con cui ho lavorato Più divertenti Perché riesci a Non tanto a importi Ma a dare la visione Del loro Del loro problema Da risolvere Perché poi Ogni lavoro Che viene proposto È un problema Da risolvere Ci riesci poi Molto bene Ci si lavora Molto bene Ecco poi Sui social Molte delle cose Che faccio Poi prettamente Per lavoro Non le metto Ma perché sono Un po' più Non noiose Ma sono Un pochino fuori Diciamo Dalla logica divertente Dei social E quindi Già con Faccio una fatica Incredibile Quando poi Devo mettere qualcosa Tendo a mettere Le cose un po' più Che possono Più catchy Mi parerei Con questo inglesismo Di cui mi sono Già pentito Già mentre lo stavo Dicendo Sapevo che non Dovevo usarlo Questa è Questa è la strada Però Sì Sto pensando Anch'io Alla Alla Possibilità Di un Di un agente Sicuramente Mi Mi salverebbe Da Mi aiuterebbe Molto Sicuramente Sì No assolutamente Poi puoi concentrarti Su altre cose Che ci tieni E ti darebbe Una sicurezza Che non è scontata Perché come tu Mi insegni Anche tu da freelance I lavori che saltano Cose improvvise Eccetera Sono Sempre in agguato Quindi Ma io intanto Sto girando Sul tuo Instagram Ultimamente Ho messo Principalmente Appunto Un po' di vignette Un po' di storielle Su Su Ramon Per spingere Un pochino Poi ogni tanto L'intervallo Con Con qualche lavoro Appunto Per qualche rivista Per qualche Ramon Fantastico No 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 Dovevo Pagare il tributo Un minimo A A Iman Ah si assolutamente No che La tua infanzia Ma in realtà No non c'ho Una storia un po' complicata Sono troppo piccolo In realtà La mia generazione Non era dei masters Perché Io guardavo Iman Io sono 95 Io sono 89 Ed ero già giovane Ma perché Iman La facevano vedere In televisione Nell'orario In cui io Tornavo da scuola La mattina Cioè Fichissimo Però io Purtroppo L'ho conosciuto Tramite il fratello Grande di un amico Che aveva tutti i giocattoli Quindi quando si giocava Da molto piccoli Capitavano questi giocatori Di man Che solitamente Erano molto più figli Perché c'era sto tizio qua Muscoloso Con sta mutanda di paglia Che voglio dire Io non ho mai capito La mutanda di paglia Quanto deve prudere Iman Ah no assolutamente Se fossi Iman Contanto che poi Iman è Praticamente la faccia Tipo di Con questo caschetto Di Simona Ventura Simona Ventura Che però Però Mi ha sempre affascinato E poi Gli ho riscoperti tardi Diciamo Non sono proprio Sono cresciuto Con altri cartoni Io avevo le tartarughe ninja Ah ma Quello E hanno la religione Era quella Per me Mi ricordo Vivi Sembatt Ah minchia Check Cioè sto facendo tutti i check Poi gli impanamenti di Simson Andiamo Andiamo sul classico Simson Che sta bene con tutto Quindi non Vabbè i Simson sono Gli puoi rivedere le puntate No sono fantastici Sono fantastici Fantastici Poi con Ho un pochino perso Nonostante L'animazione Mi attiri tantissimo E mi piacerebbe poi Riuscire ad esplorare Anche lavorativamente Più di quanto L'abbia già fatto Nel senso che Un pochino di lavori Animati Sono riuscito A portarli a casa Diciamo L'animazione Faccio più fatica Sono più da Ok ok La realtà Nonostante io Poi disegni cose Non di finzione La realtà Mi interessa Sempre un pochino Di più Della finzione Totale Magari del cartone animato Quindi ho dei cartone animati Che adoro O ho adorato Ma tendenzialmente La realtà filmica Mi interessa Sempre di più Ma sai che è meglio Perché poi riporti Un po' Quella Quella roba lì Certo Invece di restare solo No 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 Chiaro Ma questo per direte Che sono una pippa galattica Con serie tv D'animazione O film d'animazione Che dicono No no Fichissimo Probabilmente Io non le ho viste O comunque Non ci sono mai Abbiamo detto prima Riga e mori Io personalmente Nonostante poi Mi piaccia andare veloce Su quello che faccio Cioè a me stancano Mi si fonde il cervello Io sto ancora pensando Alla sigla E ci sono i titoli di coda Invece sullo schermo E non ho capito Cioè Vanno a una velocità Che nonostante il mio cervello Va abbastanza Sopra i limiti Diciamo Cavolo Mi stancano Mi stancano Mi stancano tantissimo Tantissimo Ma poi a riga e mori Cioè ci sono anche I riferimenti A robe A come Magari è stata fatta La puntata Tra l'altro Mi ricordava un po' Ramon Perché Perché da una cazzatina Cioè che l'ha scritta Su un uro Tirano fuori Tirano fuori Certo Poi tutta una storia Intricatissima Impossibile Chiaro Psicologia I personaggi tristi Che poi Certo Cioè Bellissimo Bellissimo Ma Torniamo un po' Alla parte di Di lavoro E ti volevo chiedere Ma Chi sono i tuoi principali clienti Allora la cosa bella Come immagino per tutti Del lavoro Dell'illustrazione Passi da Cioè un ventaglio Stranissimo Nel senso che Dalla copertina Della band Del centro sociale Che fa hardcore punk Fino poi A dei brand Più grossi Nel sei anni Mi è capitato di lavorare Con il Pitti Con Di Saronno Con Campari Con Moleskine Con il Genoa E non perché io sia Particolarmente tifoso Del Genoa Cioè È trasversale la cosa Sì Ed è divertente Lavorare con tutte Queste cose Ah bello Sì Quindi ognuno Poi ci sono dei lavori Chiaramente Un po' più Non dico semplici Ma più Facili Come progettualità Che può essere Appunto Una rivista Appunto L'illustrazione Che era aperto prima Era per Schial Per Magazine Che è una rivista Di alpinismo Eccetera E poi fino a Dei progetti Più complessi Come può essere Non so Appunto Quando lavorai Ormai diversi anni fa Per il Pitti Che ovviamente È molto più Più complesso Ma o per dei lavori Che avevo fatto Per Rinascente Sempre Sto prendendo Dal passato Ma anche Più recenti Con Accenture Startup Italia Che stiamo portando avanti Questa Questa collaborazione In cui disegno dal vivo Durante alcuni webinar Eventi Che storia Però sono cose Molto più Formali In un certo senso Sì ok Molta meno Illustrazioni Infografiche Cose del genere Ok Su quel versante lì Però appunto Disegnando E divertendomi Tutto sommato Un sacco Nel farlo Assolutamente Ammetto che prendo Tutto quello che c'è nel mezzo Tra questi due estremi Quindi dalla cosa Molto pettinata Come può essere il pitti Che necessita Di un certo tipo Di pregettualità Fino veramente Alla locandina Del concerto Di noise Che invece Mi fa impazzire Ma scusa Per il pitti Cosa fai I bambini Con la faccia No Ahimè nessuno Non ho sciolto Granché Avevo curato Per esempio L'edizione Mi pare Del 2017 2018 C'è nel sito Oddio Se torni parecchio In dieta Mi pare Avevo curato Tutta l'immagine Del pitti Poi Come contorno Avevamo poi collaborato Con Superga Con Invicta Altri brand Per fare Delle edizioni Customizzate Ma non so Ancora se le ho messe Perché il sito è In fase di costruzione Da sempre Quindi pian piano Poi cercherò Di ampliare Questa Il sito Però Questo è un esempio Questo qua Ho fatto l'esempio Del pitti Ma è un lavoro Già che ho fatto Diverso tempo fa Però mi viene in mente Perché è uno dei lavori Più iconici Più iconici Nel senso Più grossi E che mi hanno dato Più soddisfazione Perché poi Chiaramente Lavorare collateralmente Poi per Moleskine Super real Tra i brand Abbastanza grossi Dovendo creare Delle edizioni Limitate Di alcune cose È comunque Non solo divertente Da fare Ma anche interessante Proprio come viaggio Quindi diciamo Non sarei mai Entrato al pitti Probabilmente Nella mia vita Invece è stato Comunque interessante Una cosa che Tendenzialmente Non avrei Avuto modo Di conoscere Io ti ho fatto Alcuni esempi Di clienti Con cui ho lavorato Appunto negli ultimi Fai 5-6 anni Poi ce ne sono Tanti altri Che in questo momento Non mi stanno venendo in mente Sono molto concentrato Sull'Italia Dall'estero Ho fatto sempre più fatica Un pochino in America Sono riuscito A lavorare con Però più per band Più per questo tipo Di cose Diciamo Quindi poster Avevo lavorato con Con la Lenei Che è una marca Di amplificatori Che interessante Ovviamente Quello Tutti quei lavori D'oltreoceano Sono arrivati tutti A causa Grande Dei bambini Sì 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 Tutta colpa loro Grandissimo Ma una figata Una figata Pazzesca Dei clienti Più Più svariati Sono arrivati Cioè Grazie Oh provaci ancora A fare Virare Un'altra Illustrazione Eh sì Però il problema È che Allora Il gramofono È vintage Cioè ho beccato Proprio Ho toccato Delle corde Vintage Delle persone Io ci proverei Col Walkman Ma non è abbastanza Dovrà passare Troppo più tempo Col Walkman Perché secondo me Non è ancora A parte che adesso Fai sanguinare orecchie Sì ma ho notato Che anche nei mercatini Seguendo un pochino Due o tre band Due o tre Cose musicali Anche È tornata di moda La cassetta Cioè molte band Fanno di nuovo Le music cassette Che è una cosa Che io pensavo Il festival bar Avesse fatto La fatality Con le Con le edizioni Blu e rossa Dopo di quello Pensavo Che fosse finita Invece stanno Con quelle Quindi voglio dire C'è un mondo vintage Da riscoprire Questo secondo me Non siamo ancora Pronti per Per i bambini Che ascoltano Il Walkman Quindi Sì Su quello Le faremo sapere Bambini che si Sanguinano le orecchie No Chiaro Chiaro Ma Noi tra l'altro Parlamamo di Ci siamo parlati Per andare al filler Io poi non sono riuscito Bellissimo Non sono riuscito a esserci Ma portaci spesso A eventi Esibizioni Spesso assolutamente no Anzi Io per me Un pochino Dai dico una cosa Terribile Ma spesso Questi eventi qua Per me sono un po' Gli suota cantina Nel senso che magari Ho un sacco di roba Invenduti Cose E cerco di suotarli Mi diverto tantissimo A truffare Nel senso che ho trovato Questo metodo Insieme a un caro Un caro ragazzo Che hai intervistato Anche tu Che è Johnny Cobalto Johnny Cobalto Avevamo inventato Poi lui non l'ha portato avanti E lo sto portando avanti Io questa cosa Ma Il memory Ok Quindi ai banchetti Io di solito Faccio questo memory Ce l'ha raccontato Io cerco di promuovere Il gioco d'azzardo Nel senso che almeno La gente Con il piccolo contributo Di un euro Per entrare A giocare Tu puoi giocare a memory Se vinci Ti regalo qualsiasi cosa Ovviamente Vincere è Palesemente impossibile È oggettivamente Difficilissimo Ti do Alcune vite Ti do Ma è difficilissimo E questo è il mio modo Per ammazzare il tempo Durante il festival Filler è uno di quelli A cui partecipo Con più piacere E più 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 sovente Perché è uno sballo Perché è quello Che mi fa sentire Un pochino più Nel mio mondo Che quindi è tutto Incentrato Sì Sul Do it yourself Sì Sull'autoproduzione Ma Nella branca Diciamo più del Punk Skate Punk rock Skate Io poi Skate Per poterci salire sopra Dovrebbe esserci Un cingolato Skate Perché sono una Pippa Ci ho provato una volta E credo che per me Lo skate Non sia esattamente Il mio mezzo Di Sì Però ti posso dire Che tu C'hai lo stile Panchetaro Da pub Pub inglese Un minimo Non ti dico Cresciuto Lì Ma Quelle Sono le ispirazioni Se tu Mi faccio la domanda Da sola Dove trai ispirazioni Beh da quello Poi Da quello Poi Perché poi comunque Principalmente Più che l'illustrazione È stata la musica Farmi iniziare Quindi Vediti le copertine Vediti tutti i poster Vediti tutte queste cose qua Vediti l'immaginario Che alcune band Ti tirano fuori E automaticamente Poi mescoli tutto E quello Poi esce Da Stoda Questa specie di Minestrone Alla Genova Esce poi quello Quelle cose lì Il tuo stile D'illustrazione Mi piace molto È tutta roba Con cui siamo A sto punto Cresciuti E quindi automaticamente Poi dai magazzini E ciao Cioè nel senso Per toglierla È tosta In più Ho trovato Mi trovo molto bene A disegnare In questo modo qua Riesco ad avere Un buon Rapporto Tra velocità Di esecuzione E poi effettivamente Risultato E quindi direi che Su quello Non credo Grazie anche al digital Io per anni Ho pensato Alla versione romantica Di tutto ciò Cioè L'originale Ma no Ma voi che usate il digitale Siete dei mostri In realtà Sti cazzi I lavori che sto Portando avanti adesso Probabilmente Non potrei nemmeno Realizzarli Senza Ballalmente Alcune animazioni Che ho dovuto fare Per dei clienti Cioè Non avrei potuto Nemmeno azzardarle Eh vabbè Direi che va più che Va più che bene Sì No grande Allora poi dopo Mi vado a curiosare Perché non pensavo Disegnassi anche tu Nel senso Io sapevo che tu Animavi Mi sono andato a vedere Un pochino di cose Tra l'altro Ti rifaccio i complimenti E no c'è C'è il Michael Jackson Il Michael Jackson Cosa devo dirti Su Michael Jackson Un disco della madonna E in più Hai fatto una ficcata Quella cosa Dei dischi Ripetimi il nome Del progetto Discover Discover Era una ficcata Era veramente Una ficcata Una bellissima idea E quando ho visto Infatti Non conoscendoti Avevo visto Già l'illustrazione Me la ricordo Fichissimo Sì 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 Fichissimo Grazie grazie Qual hai fatto di altro Ho fatto Dr. Dre Ho fatto Dr. Dre Ok C'è Rocco Però non me la ricordo Però è difficile Dimenticare C'è un culo Che twerca Bello Allora mi sembra Più interessante Chiedo scusa Michael Jackson Non c'è nessun culo Che twerca Anche perché Trigger Zombie No sì sì Era più su quello C'erano più morti Sono però più affezionato A Michelone Quindi A Michelone Mi hai toccato Anche un po' Le corde giuste Dell'anima Perno Fichissimo Era un bel progetto Tu cosa ne pensi Dell'intelligenza artificiale Cioè ci sono Io sto chiedendo Un po' di gente Vorrei potermi togliere La maschera Ma io sono un robot Ma no In realtà no Questa puntata È stata fatta Con i testi Ma io sono fatto Completamente In CGI Infatti vedete Che non sono Lui non esiste In realtà È tutta CGI Questa Ho parlato Con un po' di persone Gioni Cobalto Ogni tanto Utilizza Per fare delle Robine Con l'intelligenza artificiale Cavolo 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 Se la sua puntata Esce domani La vedi E quindi mi fado A prendere un attimo Due cose Andate a che vuoi a vedere E tu cosa ne pensi Pensi che ruberà Il vostro lavoro Ma io spero di sì Nel senso che In modo che Dai Onestamente Io c'ho un sacco Di cose Io voglio dire Credo di essere molto bravo E questo lo dico Proprio Senza falsa Non è Anzi Posso dire quasi un campione Cioè portatemi Proprio le vostre nonne E vedrete Che la parmigiana Di melanzane È più buona La faccio io Quindi io Aspetto questo momento Con ansia Per potermi dare La cosa che so fare meglio Cioè la parmigiana Di melanzane Cioè Piacere o meno Ma su quella Non transigo E credo veramente Di avere un po' Una menzione speciale Nell'albo d'oro Delle parmigiane Di melanzane Poi Quindi quando succederà Che l'intelligenza artificiale Prenderà Si farà crescere le basette Arrivare alla coppola E mi dirà Bomber Io so illustrare Mi sa che sono più veloce Più simpatico E allora io Mi ritirerò A fare quello Non ho in realtà Un'idea tanto precisa Anche perché Non ho Non Devo ammettere La mia Non totale Ma la mia Grossa lacuna Su queste cose Ho avuto modo Di vedere due robe Fanno paurissima Fanno veramente paura Non ti so dare Una risposta Veramente razionale Su questa cosa Potrei dire una cosa Un po' fatta Tipo Ma Non hanno l'anima Ma in realtà Probabilmente Conosco un sacco di persone Senza Che sono molto più robotiche Probabilmente Del mio telefono Quindi in realtà Non lo so Non so darti una Com'altro cosa ha detto Cos'è Così copio le risposte Dagli altri Cosa ha detto Era contento Andate a vedere La puntata Giusto 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 Richiama Però ti dico io cosa penso Vai Io penso che l'intelligenza artificiale Siano mondi paralleli Dove Le immagini che vengono generate Sono Sono realmente degli esseri Che esistono Quindi le loro immagini Vengono prese Da questo Sistema Che sballo Sarebbe tanto Sarebbe tanto Sarebbe tanto Sarebbe tanto Bello Se fosse Tantissimo Tipo Black Mirror Ma tanto bello Non ripeto la parola Black Mirror Perché anche qui Poi abusiamo Un vilipendio Alla lettera R Per me Diventare effettivamente Il rischio è che appunto Gli ascoltatori sentano Una R È costante Che a volumi alti Spacca cristalli Vetri Finestre Però Però è interessante Però è interessante Sta cosa Devo approfondire Ammetto che la cosa Ho visto un po' Di cose Perché poi un po' di gente Mi ha detto Senti un po' Quindi Abbiamo chiuso qua Guarda un attimo sta roba Ti piace sta foto Non l'ha fatta L'ha fatta un computer Pensate Cazzo Ho visto che sanno anche Suonare abbastanza bene I computer Suonare? Sì Fanno anche musica Ci sono dei pezzi Adesso composti Interamente Dalle cose Quindi non abbiamo più bisogno Dei craft E alcuno E quindi Quelli ci togliamo Dalle palle Cioè nel senso Andata Depenniamo I craft E fanno Tutto Tutto Finché non Mi ruberanno La parmigiana di melanzana Perché non so Se un computer Può friggere Come ho imparato io E quindi Ahimè Questo è l'unica cosa Quando Apple Inizierà A fare Friggitrici Sarà effettivamente Finito E allora La mia vita Sarà completamente Senza un senso E dovrò trovare Un'altra ricetta O qualcosa In cui sono più Più abile E allora mi collego subito Perché Una cosa che ti volevo chiedere La ricetta È semplicissimo Se tu non facessi Poi ci passi anche La ricetta Cioè Sì 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 Ma la facciamo Apparire in sovraimpressione Se mai ti passo Il video Io che la faccio Con il grembiule Vestito da nonna Sì ma guarda Oddio Tipo Robin Williams Qualche anno Di più Di quanti Dovrei dimostrarne Quindi Secondo me Sono già a buon punto Mi sto raggiungendo Cioè L'età mentale Pian piano Sta arrivando A quella fisica Mi sto Autoraggiungendo Da solo A quell'imba No Però ti chiedo Se tu non facessi Un lavoro creativo Che cosa avresti fatto Parmigiane Ma guarda Inizialmente Ti stavo per dire Graffiti Però Ahimè Sono Ahimè Anche creativo Quello Quindi Era difficile Ho iniziato Con i graffiti Poi come dico spesso Per i graffiti Serve una qualità Che io non ho E adesso Per scavalcare I cancelletti E i muretti A secco Della mia amata Terra natale E non essendo Proprio un ninja Cavolo Ho dovuto Smettere In tenera età Di fare Graffiti Prima di una vita In prigione Entro almeno Però Oddio Sai che non saprei Rispondere Sicuramente Mi piace molto mangiare Quindi Avessi fatto le parmigiane No Seriamente È una cosa Non sono assolutamente In grado Di cucinare A parte queste tre cose Magari che riesco a fare Di cui mi sto specializzando Cioè Poche cose Ma assolutamente Ma buone Dece Cioè Almeno parmigiana Ti ripeto O io non ho assaggiato Quindi No 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 Effettivamente Non puoi fare Però Credo di essere competitivo In questo Sai che non ne ho idea Anche perché Realisticamente Da quando Campo Sin dall'elementare Che era un piccolo Bambino Che disegnava Ho sempre Ho sempre trattato Con il disegno Se tornassi indietro Probabilmente Mi piacerebbe tantissimo Sempre mestieri Che pagano Difficilmente Tipo la musica È sempre stata Una cosa Ultimamente Il cinema Nel senso Che è una passione Che Cinema La passione del cinema Film sempre piaciuti Ma del cinema In sé Più recente Quindi Probabilmente Qualcosa del genere Però siamo sempre In campo creativo Quindi A meno che poi Non vada a fare Al posto delle tag Degli Excel Sul muro Faccio delle dichiarazioni Dei redditi Su muro Faccio delle murate Di scontrini Ma non so Se effettivamente È un Vabbè Andresti a scrivere In giro Ramon Icegar Beh a sto punto Sì Usando probabilmente La bomboletta Così tipo Principe di Belera Usandola tipo Deodorante Ramon Icegar Sì sì Esatto La immaginavo così Più o meno Però non saprei Cavolo Che domanda difficile Vedi Hai fatto bene Perché hai iniziato Prima con le domande Che mettono Da proprio agio Sì E adesso mi sganci Ste bombe Che Wally Dimmi Aiutami tu Che sei qua Dimmi qualcosa Dimmi Cosa Probabilmente Avrei fatto questo Qualcosa del genere Mi sei L'ultima domanda È cos'è la vita La conferenza vita Adesso Poi prendiamo le misure Non Ci mettiamo un attimo E No no Però Però Non è una domanda Che ti mettevi in difficoltà Dai Quale Cos'è la vita No no Su quella Su quella Che lavoro Avessi fatto No no Invece è interessante È interessante Anche perché No perché tu riesci bene Nel tuo lavoro Tu riesci molto bene Grazie Ci riesco Diciamo che riesci a Se riesci a Sopravviverci Che è già un lusso Per quanto mi riguarda È già un lusso Farei anche tanto Secondo me Perché L'opera A proposito dell'opera Adesso la Facciamo la dedica A Tai Ah cacchio è vero Purtroppo non c'è più tempo Io direi che questa dedica Mi dispia Guarda Se metto la penna in mano Alla Wally Magari Riesce a Giustare la sera meglio di me Facciamo la dedicata I tempi sono maturi Secondo me E intanto E intanto Tu puoi parlare Mentre fai la dedica Potrei risponderti di no Annullando il senso Ma in realtà Io intanto Faccio gli affari miei Come avrai notato Io ho questa predilezione Per la chiacchia Cioè parlo tanto Non so se No no ma Lo sa chi è passato Al mio banchetto Nell'ultimo filler Lo sa benissimo Quindi Ho già minacciato Cioè è una cosa Abbastanza conosciuta Che non sia proprio Taciturno Quindi Fermami Sparami No Vai tranquillo Questo è il momento tuo Vi dico ragazzi Noi ogni settimana Alle 19 Facciamo il nostro podcast Sulla creatività Oggi è venuto Alessandro Settimana prossima Verrà un'altra persona E ci sarà un'altra persona Quindi ogni giovedì Alle 19 Esce la nostra puntata Del podcast Per il futuro Stiamo Programmando Tante 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 cose Per il canale YouTube E per il podcast Quindi Restate con noi Restate connessi Per vedere Gli aggiornamenti Se volete Beccare Alessandro Lo trovate Adesso vi faccio vedere Tutte le Il sito E tutti i posti Dove potete Beccarlo Questo è il suo sito Alessandro Ripane Punto com Guarda sono stato Storpiato in così Tanti modi Finché non Guarda Le superiori Mi ricordo C'è una professoressa Che se ne è uscita Con Ripene Che secondo me È più o meno Di nuovo Ripene Che si chiude No Però Lo potete Beccare Su Alessandro Ripane Punto com Oppure Il suo Instagram Che è Sempre Alessandro Ripane Giusto Esattamente Alessandro Ripane E lì trovate Poi tutte le info Trovate Tutte le info Lo potete Potete scrivere Alle 5 del mattino Lui vi passerà Numero di telefono E sovraimpressione E sovraimpressione Sì 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 Alle 5 del mattino Va benissimo Alle 5 del mattino Minacce Anche foto Di Cazzetti Cioè voglio dire Siamo aperti A un sacco di opzioni Assolutamente Non limitatevi Nel senso Illustratore Ma anche Mandate le foto Delle palle rasate Forse è già arrivato qualcosa È già arrivato qualcosa Anche se non siamo in live Magari Anche se non ho postato Già è arrivata roba E questo Ci trovate Su tutte le piattaforme Di podcast Cazzo La sto facendo in diretta Sì ho scelto una tecnica Un po' più lenta Solitamente le faccio Con la tecnica Della fresco Del mosaico Però stavolta Giusto che c'è una penna C'è una penna Tu hai detto Che ci hai messo pochissimo A fare Il fumetto Ci hai messo un mese Allora Per fare il fumetto La versione digitale Del fumetto Ci ho messo poco più Ma lavorando Anche quindi Proprio nei tempi In realtà era lockdown Quindi col Covid Ha dato abbastanza Una bastonata Perché molti Lavoro in presenza Eccetera Sono stati Mi hanno segato le gambe Abbastanza In quel periodo No perché Ho visto che Ho visto che Lavori bene Lavori veloce In maniera veloce Anche adesso Adesso che stai facendo La dedica Sì ma sto facendo Più che dedica Un disegnino Cioè così So che Cerco di compiacere Dai Che probabilmente Non gli piacerà Strappera Tutto No ma è rovinato Tutto No lo capisco Facciamo una cosa Facciamo una cosa Guarda la camera E fai la magia Di velocizzare il video Così arriviamo Verso alla fine Del video Vai Velocizzati Ma ragazzi Dov'è che Dov'è che possono Trovare il Il fumetto Il fumetto Come vi ho detto prima Lo puoi trovare In quasi tutti gli store online Quindi Cito giusto Amazon Ma ci sono anche Più conosciuto E anche in fumetteria In libreria La maggior parte Di librerie Le trovi Manualmente Anche una Feltrinelli Feltrinelli È presente Se non nelle fumetterie Di solito È È presa Cioè Si trova abbastanza facilmente Perfetto Ramon Hai sgarrato Su Amazon Su Tutte le librerie E non andate in giro A scrivere sui muri Ramon ha sgarrato No perché poi Stavonsi come me Poi devono fare Certi fumetti Esatto Quindi nel senso A meno che voi Non vogliate Poi leggere Ne altre Cioè Cioè Fate queste cose Con la responsabilità Ah io lo voglio Io voglio E allora guarda C'ho dietro qualcosa Andiamo a fare Scriviamo Adesso qua a Milano E secondo me poi domani Qualche Qualche libro Esce Guarda Ce n'era una scritta Fantastica Che era spuntata Sotto Sotto Casa Mia vecchia Qua a Milano Che non so se si può dire Il vecchio E la troia Ah non si poteva dire Ah no Scusa Ma il bbp Il vecchio Lo so perché adesso Il bbp e la troia Facciamo il Il boomer La sex war Che facevamo così Che era anche più inclusivo E cavolo È una scalità fichissima Cioè nel senso Non so tanto Non conosco la storia E ce n'è diverse Perché stavo in zona Via Le Umbria Vicino a Porta Romana E cavolo Spuntata Sta scritto Ho detto Cazzo qua Mi sa che mi tocca Farci qualcosa Cioè con il vecchio La troia Cioè qua non Non so Poi magari no Vecchio la troia E Ramonna Sgarrato di nuovo Cioè nel senso Io ci faccio un pensierino Poi mi sembra già La storia si scrive Già da sola Esatto Mi sembra Senza troppa fatica Esattamente Esattamente Quindi su Amazon E tutte le librerie Più conosciute Potete trovare Ramona Esgarrato E presto ci saranno Aggiornamenti Che potete seguire Dalla sua pagina Instagram Che vi ho fatto vedere Trovate il link Tutti i link I nostri E il link di Alessandro Lo trovate sulla descrizione Del video Quindi Ale Io direi che È stata una bella chiacchierata Continuiamo adesso Sì adesso la chiacchierata Continuiamo Ma ovviamente Tutte cose Che non si possono dire Che non si possono dire Ma cose blasfeme Terribili Adesso ci prendiamo A cazzotti Ci prendiamo a cazzotti Fuori onda Quindi purtroppo Non possiamo far vedere No è violenza in CGI Comunque tutto in CGI Ci piace però Tutto in CGI Facciamo Tutto in CGI Vada per la CGI E devo dire che c'è anche Una bella focaccia genovese Vabbè sì Quello per forza Sì anche perché Volevo ungere un attimo Guardo un tavolino Qualcosa E mi sembrava Visto che la latta d'olio Era pesante La focaccia È giusto Con una bella focaccia genovese E Il Bellissimo fumetto Di Alessandro Di Pane Noi vi salutiamo Ci becchiamo alla prossima Ale la camera è tua Ciao ragazzi Buona Buon proseguimento E grazie di aver visto Questo video Bellini Algasi Metti in attimo La sigla Metti la sigla Figa Cioè Sta cazzo di sigla Metti Basta O ому Metti la sigla Grazie a tutti.